Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ad un Breitling. Breitling Avenger è una collezione che è stata rinnovata a novembre del 23 con dei nuovi modelli, sia cronografo sia a solo tempo che GMT e io ho portato sul canale la versione GMT perché ho scelto il Breitling Avenger, perché recensire un Breitling è sempre un piacere per gli occhi, studiarlo un pochino fa parte del piacere di avere a che fare con gli orologi, di questo hobby. E poi anche perché io ho il Cronomat della Breitling, il GMT Cronomat, e quindi volevo un po' vedere se poteva essere un'alternativa un po' magari più sportiva, differente rispetto al mio. E qualche differenza c'è, no? Oltre la sportività c'è anche qualche dettaglio tecnico che su questo forse è migliore, ma vabbè, poi lo vedrete. Chiaramente ci sono differenti, differenti versioni, quadranti, bracciali, cinturini, lascio a voi il piacere di andare a vederveli, tanto non è che io devo elencarveli tutti, sono qua per fare la recensione, la panoramica di questo bellissimo, GMT è di quello farò, gli altri ve li andate a vedere da soli, come si suol dire. Chiaramente l'orologio, come sempre, è stato messo a disposizione dall'amico Giacomo, che è il titolare della gioielleria Pasquali Domenici di Viareggio, che è partner ufficiale del canale, quindi vi mette a disposizione gli orologini che mi piacciono da recensire, chiaramente è il concessionario del marchio, quindi andate da lui e vedrete che vi offre un trattamento di favore. Detto questo, prima di passare all'orologio, altro da dire come presentazione, non l'ho, se non che ho il mio orologio del giorno da mostrarvi, ossia l'orologio Calamai MC72, 39 mm di diametro cassa, quadrante nero opaco, bug interna per calcolare i tempi, doppia corona zigrinata, a me piace questo family feeling di Calamai, con queste corone che sono molto di tecnica, anche sottile, perché dentro c'è il suo bel selite sv200 top grade, se non sbaglio, controllato su 5 posizioni, va bene, come l'avete già visto, andate a cercare la recensione sul canale, cioè vi spiego tutto. Adesso noi giriamo la camera e finalmente diamo un'occhiatella a sto Brightling Avenger, che se lo merita. Ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali. diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo. Diametro cassa 44 mm, spessore 12, ingombro trasversale al polso 52.6 e in trasianza da 22 mm. Non paiono esservi dubbi che questo sia un orologio sportivo, un GMT che fa della presenza al polso la propria caratteristica fondamentale e che una volta indossato ci restituisce quel gusto tipico dei tool watch realizzati da Brightling. Non dobbiamo quindi lasciarci prendere in contropiede dalle misure corpose, ma piuttosto considerarle come la quintessenza di un orologio quasi tecnico. D'altronde sia la complicazione GMT che l'impermeabilità a 300 metri parlano chiaro. Un orologio da utilizzare con lo scopo di viaggiare senza preoccuparsi delle infiltrazioni da parte di agenti esterni, siano essi polvere o d'acqua. Alla luce di tutto ciò fa specie l'esiguo spessore di soli 12 mm che spalmati sui 44 x 52 mm appaiono ancora più esigui, conferendo così all'intero orologio proporzioni globalmente apprezzabili alla vista. A livello di design ci troviamo di fronte ad una cassa con una silhouette alquanto standard, anse prominenti tagliate a 45 gradi, profilo leggermente sinuoso e finitura completamente spazzolata. Sono invece i dettagli ad attirare poi un certo tipo di attenzione. Solitamente quando si ha una finitura spazzolata ci sono anche dei biselli lucidi a contrasto. Non è questo il caso. Qui si è optato per delle superfici di separazione in negativo. Una dolce ma ben visibile scanalatura opaca che corre lungo il profilo divisorio tra lato carur ed orso ansa. Apprezzabile ed originale soluzione. Un altro particolare poco visto e poi riscontrabile ad ore 12 e ad ore 6 laddove tra le anse la cassa fuoriesce leggermente dal profilo ghiera andando a mettere in mostra una sottile lingua di acciaio che solitamente non è presente. Particolarità che rafforza la quantità tra virgolette di acciaio percepito. Ma è la ghiera con il suo design a caratterizzare definitivamente l'orologio e a restituirci l'inconfondibile family feeling di Breitling. La classica architettura a quattro cavalieri che siamo abituati a ritrovare nella famiglia Cronomat. Occorre però dire che a differenza del mio Cronomat GMT qui vi sono riportati numeri su scala 24 ore direi soluzione ideale per l'utilizzo come funzione secondo fuso orario. Tra l'altro è bidirezionale e ha 48 scatti in modo e maniera da poter segnare anche i fusi orari da mezz'ora. Inutile dire che la manovrabilità è perfetta e la qualità di realizzazione eccelsa. Spazzolatura radiale molto fine, numeri incisi laccati di nero e dot luminescente incastonato nel cavaliere ad ore 12. Da notare poi le otto microviti di serraggio, viti funzionali che però svolgono anche una palese funzione estetica con un risultato particolarmente accattivante. Ma torniamo alla globalità. Un'altra caratteristica evidente è il fondello completamente piatto che fa pandan con il vetro a sua volta piatto. Vetro zaffero che parte leggermente sopra la ghiera e leggermente sotto la quota dei cavalieri. Va da sé che la buona leggibilità è garantita sia dall'assenza di curvature che dal doppio trattamento antiriflesso. Come spesso accade nei brightening il vetro sembra quasi non esserci e la vista riesce a percepire perfettamente ogni dettaglio presente sul quadrante. Mi rifaccio sempre al confronto con il mio Cronomat GMT in quanto ritengo sia utile per poter apprezzare le differenze per fare un'eventuale scelta. Bene, qui il fondo è di un azzurro opaco piatto senza riflessi, mentre sul Cronomat è presente quella sfarzosa finitura Soleil. Due differenti interpretazioni che consentono al pubblico di optare per l'uno o per l'altro. Di certo qui si è scelto di completare il quadro puntando sull'opacità, indici applicati in rilievo molto tridimensionali e a finitura satinata. Sia la pasta luminescente che i segmenti metallici di contenimento appaiono infatti piuttosto opachi e non è una soluzione che ho visto spesso. Gli unici accenti lucidi presenti li troviamo sul bordo delle sfere e sul logo ad ore 12. La classica è tronfia bicorsiva in rilievo che tanto ci piace osservare. Essendo un GMT è ovviamente presente la quarta sfera, rossa. Ha freccia che va a puntare sulla scala 24 ore presente sul rio inclinato. Purtroppo è secondo me poco leggibile, proprio come sul mio Cronomat. Meglio utilizzare le cifre presenti sulla ghiera girevole che sono ben visibili. Certo, le due scale consentono di monitorare ben tre fusi orari e in quel caso bisognerà aguzzare la vista ed utilizzare anche quella presente sul rio. Si tratta di un GMT cosiddetto office, nel senso che la sfera indipendente è quella GMT. È possibile puntare un secondo fuso senza modificare l'orario di casa, come se ci trovassimo in ufficio e volessimo sapere che ore sono altrove. Mentre in caso di viaggio verso l'estero occorrerà settare tutto l'orologio impostando la sfera ore e minuti sull'orario locale e quella GMT sull'orario di casa. Questa è una prerogativa del calibro Sellita SV330, esattamente lo stesso presente sul Cronomat GMT. Meccanismo conosciuto di più è che non ha bisogno di approfondimenti. Come sempre tutti i movimenti utilizzati da Breitling sono certificati COSC con uno scarto dichiarato di meno 4 più 6 secondi al giorno. Non ho ancora menzionato la legibilità in assenza di luce. Bene, come si vede tutti gli accenti sono ben visibili, dot sulla ghiera compreso. Tramite la sfera secondi è monitorabile il corretto funzionamento ed è possibile anche individuare la sfera GMT, anche se non vi sono poi cifre illuminate a confermare l'orario. Poco male, non è una caratteristica indispensabile al buio. Non rimane che parlare del cinturino che in questo caso è in materiale tecnico esternamente ed in pelle a contatto con il polso, una scelta in linea con lo spirito sportivo dell'orologio e che unisce tecnologia ad ergonomia barra comodità. Da segnalare l'imbottitura nella metà di accente le anse, una soluzione che lo rende proporzionato alle dimensioni generali della testa. Il tutto condito da una chiusura deployant che aggiunge quel pregio necessario ad un orologio di questo rango, oltre che preservare maggiormente l'integrità del cinturino stesso. Possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali. Centurino, bello, 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 tutto quello che volete, ma che è abbastanza estivo come configurazione. Ma vi ricordo che esiste anche la versione braccialata e che solitamente è sempre meglio prendere quella col bracciale e il centurino in seconda battuta, anche se nel caso di brightening credo che i centurini costino parecchio. Quindi fate Vobis. L'orologio è promosso. Quali sono i punti deboli di questo orologio? La sportività, che è un punto a favore, può diventare anche un punto negativo, nel senso che i 44 mm magari non piacciono a tutti. Personalmente li ritengo adatti alla tipologia di orologio e lo indosserei senza problemi, anzi, considerando lo spessore, è anche abbastanza armonioso come stile. Il calibro magari di fornitura, SELIT SV330, ma come sapete io ho il eccolo qua, ho il brightening cronomat che ha lo stesso calibro e non mi sono fatto problemi ad averlo, a possederlo. Ecco, come vedete le differenze sono sostanzialmente, ci sono, cioè sono due orologi completamente diversi, lo vedete il quadrante soleil, il quadrante opaco, piatto. Ecco, una cosa che è meglio, è migliore in questo Avenger è sicuramente la ghiera con i numeri e con le ore, le 24 ore, che sul mio cronomat come vedete c'è 15, 30 e 45, che non hanno senso, non serve a niente, non è che mi va a indicare un secondo fuso orario, un terzo fuso orario, mentre sull'Avenger qua è simpaticamente la classica ghiera GMT che mi serve anche come funzione. Per me questo è veramente un plus importante, fatico sul mio a vedere il secondo fuso orario, a metterlo, devo sempre andare un po' a memoria, questo qua invece secondo me l'hanno azzeccata. Poi per il resto le finiture, l'avete vista anche dalle macro, sono eccellenti, il fondello chiuso, bello a filo, lo fa sembrare snello come volete. La Deployant, ripeto, è sempre un plus perché secondo me è da pregio all'orologio e evita di rovinare poi il cinturino, sempre ad infilargli l'ardiglione dentro, si consuma. Niente, per me è promosso, chiaramente è adatto solamente o maggiormente a chi predilige la sportività, non è certo un orologio da 40 mm da 39 da indossare come se fosse un simil vintage, no, qua proprio di vintage non vogliono avere niente. Vanno un po' a riprendere con la ghiera, con i cavalieri, il solito stile di brightening, quello sì, c'è un family feeling, una continuità di stile con il passato, ma per il resto è un orologio moderno, contemporaneo e sportivo, chi più ne ha più ne metta. A me è piaciuto, è promosso, dai è promosso. Io ragazzi vi ho mostrato tutte le caratteristiche dell'orologio, i lati positivi, i lati negativi che sono un paio, le dimensioni e calibro di fornitura, poi chiamateli negativi come volete, per il resto poi vi arrangiate voi, perché io non è che posso stare qui a dirvi sì, comprate questo, no, non comprate questo. È un orologio che può piacere, di qualità, costa, costa quello che costa. Se avete soldi, compratelo. Se non avete soldi o se volete comprare qualcos'altro, comprate qualcos'altro. A me a un certo punto no, poi devo andare anche a vedere i gattini su Instagram e non è che posso stare qui a convincervi più di tanto. Ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, naturalmente, come al solito, perché se siete arrivati alla parola gattini, vuol dire che avete guardato tutto il video e ne sono contento. Scrivete gattini nei commenti, così guardiamo un pochino se ci siete arrivati o no. Io vi ricordo gli appuntamenti fissi che, come sempre, sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love! Ciao!